Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la congiuntività allergica. La congiuntività allergica è un'infiammazione della membrana trasparente che riveste la parte anteriore dell'occhio, chiamata congiuntiva, causata da una reazione allergica a sostanze come polline, polvere, peludo animale o allergeni alimentari. La cura della congiuntività allergica mira a ridurre i sintomi e alleviare l'irritazione degli occhi. Ecco alcune opzioni di trattamento e misure che possono essere adottate per gestire la congiuntività allergica. Evitare gli allergeni. La prima misura di prevenzione e trattamento è evitare o ridurre al minimo l'esposizione agli allergeni noti. Ad esempio, evita di stare all'aperto in giornate di alto tasso di polline, utilizza copricuscini antiacari della polvere, riduci il contatto con animali domestici se sei allergico ai loro peli, ecc. Uso di colliri antistaminici. Gli occhi possono essere trattati con colliri antistaminici da banco o prescritti dal medico. Questi colliri aiutano a ridurre il prurito, il rossore e l'infiammazione. Alcuni esempi di colliri antistaminici includono l'antazolina, l'acetirezina e la zelastina. Colliri a base di corticosteroidi. In alcuni casi, il medico può prescrivere colliri a base di corticosteroidi per ridurre l'infiammazione e alleviare i sintomi. Tuttavia, questi colliri devono essere utilizzati sotto la supervisione del medico, poiché possono avere effetti collaterali se utilizzati a lungo termine. Lubrificanti oculari. Gli occhi secchi possono essere un sintomo della congiuntività allergica. L'uso di lubrificanti oculari artificiali può aiutare a mantenere gli occhi idratati e ridurre l'irritazione. Compressa fredda. L'applicazione di una compressa fredda sugli occhi chiusi può aiutare a ridurre il gonfiore e il prurito. Evitare di sfragare gli occhi. Anche se può essere difficile resistere all'istinto di sfragare gli occhi quando sono pruriginosi, questo può peggiorare i sintomi e diffondere l'irritante. Cerca di evitare di toccare gli occhi con le mani non pulite. Consultare un medico. Se i sintomi della congiuntività allergica sono gravi, persistono per un lungo periodo o non migliorano con i trattamenti da banco, consulta un medico. Potrebbe essere necessaria una valutazione più approfondita e il medico potrebbe raccomandare trattamenti specifici. Ricorda che è importante seguire le indicazioni del medico e non usare colliri con steroidi o altri farmaci senza la sua supervisione. La prevenzione è spesso la chiave per gestire la congiuntività allergica, quindi cerca di identificare e ridurre l'esposizione agli allergeni che scatenano i tuoi sintomi. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare, raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata. Grazie per aver guardato il video.